Mia figlia è arrivata l'altro giorno con il tablet in mano e mi ha detto papà, guarda che bello questo video, piuttosto che guardare il video proviamo a installarlo. L'abbiamo installato e poi ho passato le ultime tre settimane a giocarci io. E quando lei mi veniva a chiedere il tablet, dice papà allora mi dai il tablet? No, no, perché sto facendo questa cosa molto importante. In realtà stavo giocando a Clash Royale. E quindi ci stavo giocando non per il gioco puro e semplice come voi penserete, ma proprio per scoprire come funziona e perché Clash Royale sviluppa così tanta dipendenza. E quando i videogiochi generano dipendenza, ecco che arriva Simone. Prima di tutto le dipendenze si sviluppano in maniera molto forte nelle persone che hanno difficoltà nel gestire l'ansia e persone che hanno difficoltà nell'accettare o nel gestire a certi livelli i sentimenti. Quindi praticamente abbiamo detto tutti. Vediamo Clash Royale, quindi come si presenta il videogioco appena si apre. Tac, questo screen share che io posso fare. Prima di tutto vediamo qua in basso la parte fondamentale. Vedete i due numerini, 10 e 18? Sono le notifiche. Poi vediamo i forzieri, poi vediamo gli altri bonus qua in alto. Vediamo cosa succede quando si apre il forziere. Altro omaggio. Monete virtuali. Una carta. E poi il riassuntino. Guardate cosa succede in alto a sinistra, dove prima c'era il mio baule omaggio. Adesso dice baule omaggio, il prossimo tra 3 ore e 59 minuti. E qui cominciamo a capire un pochino come funziona la logica delle attese. Ti do gli omaggi, sostanzialmente, tu ti godi gli omaggi, però ti creo anche un'aspettativa. Il prossimo baule si apre tra 3 ore e 58 minuti, quindi tu in teoria dovresti aspettare, no? Se io ci clicco un'altra volta, Ah, che bello. E dice, attenzione, il sblocco richiede 2 ore e 59 minuti. Apri subito? Se io chiedo di aprire subito, lui giustamente mi dice, eh, hai finito le gemme, vai al negozio per comprare delle altre. E quindi cominciamo a capire un pochino anche la logica di monetizzazione di questo videogioco. Cioè, tutte le volte che vuoi accelerare il tempo, hai la possibilità di acquistarlo, sostanzialmente. È un tempo che non è un vero e proprio tempo di gioco, di partita, perché se io faccio una partita, fa la battaglia, ti trova lo sfidante, subito magari il mio cavaliere, lo piazzo qui, c'è il solito lag di un secondo, il cavaliere va all'attacco, il nemico mi ha messo questi omini, e adesso si pestano. Ma io gli metto gli scheletri qui, poi adesso devo aspettare, perché in questo gioco c'è sempre la logica dell'attesa, ricordiamocelo, eh? Timer, qui dobbiamo... Timer è qua sotto, eh? Che si carica sempre. Il gioco si gioca a slot di 10 secondi. In questi 10 secondi io posso piazzare delle creature, o meglio, delle carte. Arriva un altro mago. Adesso io gli ciccio la mongolfiera. Quando ti tirano giù il castello, come vedete in questo momento, vai in svantaggio. È un po' come i gol. A questo punto cosa succede? Mi dice, riassunto, io ho preso una torre, lui ha preso due torri, quindi ha vinto lui, e ritorno alla mia schermata di prima. Nella quale che cosa posso fare? Posso o giocare ancora, oppure posso gestire i miei bonus, gestire il mio mazzo di carte. Mortaio. Cinque monete. Migliora. Quando faccio la migliora? Ci clicco. Musichetta. Tutto molto eccitante, eh, amici? Perché il mio mortaio è stato migliorato. Quando clicco, vedete le stelline che vanno là a compilare? Questo è il livello del mio combattente. E tutte queste cose sono tutte quante architettate per farti passare sostanzialmente un sacco di tempo. Guardiamo un attimo anche l'altra notifica, che è questa qua. Nella gestione dei clan, siccome è domenica, perché poi ti permette, c'è anche un legame con la settimana, siccome è domenica, io posso chiedere agli amici del mio clan delle carte. Posso anche leggere le storie dei nostri amici. Probabilmente me ne andrò da questo clan. Molto presto. Io, ragazzi, mi dispiace molto. Ho aspettato per voi, ma fin troppo tempo. Sono stanco di vedere così poche persone che partecipano e tutti i tornei prendiamo soltanto 6 su 10 o 7 su 10 con 15 persone nel clan che non fanno niente tutte le singole, every single week. Cazzo, me ne vado. Voi non partecipate abbastanza, amici. Quindi c'è anche questo lato di pathos della community. Ah, non ho ancora aperto il baule supermagico. Scusate, non ho ancora aperto il baule supermagico. Lo apriamo assieme. 7 carte sfera infuocata assolutamente inutile e golem che avevo già. Bene. Quindi praticamente cosa succede? Qui mi fa vedere in una modalità tipo slot machine come abbiamo visto prima tutte le carte che mi ha dato. Qual è il trucco di questa roba? È che queste carte se ti servono bene ma se non ti servono come nel mio caso sostanzialmente ti creano ancora più aspettativa per che cosa? Per il prossimo forziere. E questa è la logica dell'attesa dell'oggetto che ti permetterà di essere ancora più forte perché durante una partita io posso tranquillamente sconfiggere anche dei nemici che in teoria sono più bravi di me se però ho delle carte più forti. Quindi abbiamo detto i canoni comuni e tutte quante le dipendenze che si esprimono anche poi all'interno di Clash Royale sono la gestione dell'ansia che praticamente avviene durante la partita le notifiche abbiamo visto che sono di tantissimi tipi diversi i tesori quindi c'è la gestione casuale dei premi che ti crea ancora più aspettativa per i prossimi tesori che arriveranno le carte ogni carta ha un proprio livello abbiamo tutta la gestione dei clan quindi amici non amici con i quali parlare fare polemica la possibilità di acquistare tempo di sblocco che è la classica cosa che poi può rendere un gioco patologico e insomma e i tornei poi settimanali queste sono tutte le cose che vanno a generare sempre più sempre più dipendenza uno quando vinciamo ci dà un baule in omaggio e quindi ricomincia il concetto del tempo per lo sblocco due ci viene dato del denaro virtuale col quale possiamo fare gli upgrade e tre ci vengono date delle corone in omaggio per il nostro clan ora vediamo invece i miei consigli per evitare che questo gioco ti causi troppa dipendenza la mia regola aurea numero uno è mai mettere un euro quindi questa è una regola proprio legata la mia taccagneria intrinseca quindi è una regola che mi fa anche piacere quando è che viene il godimento perché tu dici ma cazzo però se tu non metti mai un euro questi qua sono molto più forti di te sì è vero e infatti succede che spesso io faccio una partita e trovi delle persone che magari sono di livello simile al mio che però hanno delle carte potentissime c'è tipo il drago volante di livello 3 e io vado lì con il mio drago sfigatissimo di livello 1 e penso eh vedi questi qui hanno comprato il baule super magico che gli ha dato la carta di livello come dire altissimo e quindi il mio godimento è cercare di battere comunque quella persona nonostante il fatto che quella persona sia dotata di carte molto migliori delle mie a volte ci riesco molto spesso non ci riesco e quindi qui arriva la mia seconda strategia e cioè io gioco fino a quando perdo tutte le volte che perdo la mia sfida per il gioco è no se ho perso gioco un'altra volta quando è che mi fermo? quando vinco la prima volta che vinco basta mi fermo e quindi stacco il gioco e faccio qualcos'altro perché è la vittoria che crea dipendenza sostanzialmente in un videogioco per cui noi tutte le volte che giochiamo dobbiamo sapere limitare il nostro numero di vittorie che è la cosa che il videogioco cerca di farti fare più volte possibile perché cerca di metterti sempre in una situazione in cui c'è qualcuno un pochino più debole di te per farti vincere perché quando il videogioco vede che hai perso troppe volte piano piano ti abbassa di livello in modo tale che tu possa combattere contro uno che ha una skill una bravura simile alla tua disattivare le notifiche questa è la parte fondamentale che io faccio con whatsapp con facebook con qualsiasi cosa le notifiche io non le so ok ragazzi cioè io devo vivere la mia vita e il videogioco vive la sua vita link in descrizione se vi interessa il concetto delle notifiche e del perché le notifiche causano dipendenza vi basti sapere che io le disattivo al 100% ultima cosa relativa proprio a clash royale dimenticatevi la presenza dei tesori temporizzati fottetevene alla grande fottetevene alla grande sappiate che tanto nei tesori non c'è quasi mai niente di utile cioè tipo molto raramente c'è qualcosa di utile staccatevi dal concetto che questo tesoro possa ottenere qualcosa di valore per voi perché il tesoro temporizzato è una di quelle leve che causano dipendenza che si appoggiano sulla tua aspettativa quindi la tua aspettativa durante il giorno sapendo che il tesoro si sblocca ogni 4 ore in teoria dopo che ne è appena sbloccato uno dici ah però adesso allora adesso è a mezzogiorno quindi significa che oggi verso le 6 si sarà sbloccato ancora quell'altro alle 6 devo ricontrollare quindi la tua mente ti dice vai a ricontrollare perché ci sarà un altro sblocco tu di questa cosa devi farti forza e te ne devi fottere alla grande cioè si sbloccano i tesori si va bene ma io gioco al videogioco nei miei momenti dovete decidere voi i momenti della giornata in cui volete giocare e io vi consiglio di giocare sempre prima di qualcosa di importante tipo per esempio la cena è importante verso non mangi non vivi quindi quando gioco 10 minuti prima di cena in maniera che così la vostra deadline il vostro momento atteso non sia legato al gioco ma sia legato alla vita fuori gioco prima di andare a lavorare gioco prima di fare qualcosa più questo qualcosa è importante legato alla vostra vita e più l'importanza del gioco sarà bassa perché tutto sommato quando poi ti chiamano per andare a cena oppure devi uscire con qualcuno devi andare al cinema devi fare quello che ti pare automaticamente il videogioco viene ridimensionato ok quindi questo è il mio ultimo consiglio spero di esserti stato utile spero che anche tu giochi a Clash Royale e te lo godi dominando la dipendenza che questo videogioco studiatissimo riesce a generare non appena smetto di giocare te lo dico scrivetemi anche i commenti scrivetemi tutto quello che vi pare se avete notato cose che io non ho notato all'interno di Clash Royale o magari anche vedremo se consigliatemi videogiochi simili io ho una marea di siti dedicati ai videogiochi e a come funzionano soprattutto le dipendenze anche all'interno dei videogiochi vi lascio i link in descrizione e ciao a tutti